Per essere uno dei migliori devi lavorare 20 ore al giorno. Nella maggior parte dei casi i migliori sono quelli che hanno temperamenti più ossessivi. Arrivano a fare cose incredibili. Era la voce di un hacker criminale noto con lo pseudonimo di Phobos, che si rifiuta di comparire davanti alla telecamera. A certi livelli violare il computer più inaccessibile che esista senza essere rintracciati e arrestati diventa quasi una necessità. Non ha senso accedere alla biblioteca locale, sarebbe stupido, si rischia l'arresto, tanto vale violare i sistemi informatici di uno da. All'alba dell'e-commerce, nel paese dei balocchi di internet, gli hacker hanno conquistato la terra. Hanno un potere enorme. Si muovono misteriosamente attraverso reti essenziali nella vita di tutti i giorni. Sono sfuggenti e sospettosi. In pochi, fino ad oggi, hanno consentito a parlare. È il più bel gioco del mondo. Meglio del sesso. Internet è gestito da persone ignoranti, poco informate e arroganti. Gli hacker sono una vera forza della natura. È difficile scoprirli e è impossibile fermarli. Non è mai successo che così tante persone disponessero di un potere del genere. Sono visionari sottovalutati o capri espiatori dei politici. In questo documentario, gli hacker ci rivelano finalmente le loro motivazioni e i segreti del loro mondo. Hackers Cowboy o criminali I primi veri pionieri del mondo del computer sono stati proprio questi inetti all'avanguardia. La loro visione di internet, un po' utopistica, è quella di uno spazio libero per lo scambio di idee. Certo, non si aspettavano che il cyberspazio diventasse un supermarket virtuale. Alcuni hacker sfidano il sistema, amano definirsi cappelli neri. Sono i cowboy del ventunesimo secolo che infrangono le leggi per muoversi liberamente nel cyberspazio. In passato, quest'uomo era considerato l'hacker più pericoloso di tutta la Gran Bretagna. Non vuole rivelare il proprio indirizzo. Così lo incontriamo in una lavanderia della zona. I am glad you are here early. This is my uncle. He is working at home today. His work is very important. A 24 anni è già stato arrestato due volte per crimini sulla rete, per aver violato oltre 100 mainframe. E 50 fra sistemi di università, dipartimenti militari governativi, la rete telefonica britannica e la NASA. Dalla sua stanza universitaria di Manchester, il nostro Cold Fire, sin da giovani, ha violato ogni server web esistente in Gran Bretagna. Conducevo una vita da hacker 24 ore su 24. Ad un certo punto, se solo avessi voluto, avrei potuto bloccare il traffico internazionale di telefonate sulle reti di tutto il Regno Unito. Questa consapevolezza ti dà una vera e propria scarica di adrenalina. Ti fa pensare... Sì, sono il più grande. Abbiamo violato circa il 90% dei sistemi che avevamo selezionato. È facilmente. È facilmente. Sì, di solito non ci vogliono più di due o tre ore per violare i primi siti. È come un gigantesco puzzle, le cui regole cambiano in continuazione. Non bisogna mollare. È una sfida intellettuale, un'ossessione, una droga. Una volta iniziato non ci si può più fermare. C'è sempre un sito o qualche altro sistema da invadere che può darti maggiori soddisfazioni. È questo che ci dà la spinta. Per questo dormiamo cinque ore, poi ci alziamo e torniamo al computer. Phobos, attivo ormai da quasi vent'anni, è sempre alla ricerca di nuove tecniche per violare reti governative e commerciali. Non è mai stato scoperto. Quella che vedete non è la sua testa. La mattina basta far partire un programma che inizia automaticamente a comporre una serie di numeri diversi tra loro. A un certo punto controlli quali sistemi sei riuscito a intercettare. Un magazzino al dettaglio o magari una banca. E se sono di tuo gradimento, nelle due ore successive cerchi di violarli. Il nostro pane quotidiano è fare queste esplorazioni a caso, provare eventi o più siti americani o inglesi, leggere le email intercettate, anche quelle della polizia, e fare in modo di non essere scoperti. La serata invece la dedichi a un progetto più corposo, che può impegnarti per una o due settimane, magari una banca, un ISP o chissà cosa. Solo a quel punto ti concedi 4 o 5 ore di riposo. La mattina dopo fai la stessa cosa, senza mai mollare. Visiti una quantità incredibile di siti e di sistemi e a quel punto diventa un impegno esclusivamente mentale. I cappelli neri sono ossessivi. Immartellano i network 20 ore al giorno, mentre i loro avversari, i sisadmin, i dipendenti dei network, lavorano dalle 9 alle 5. Per i cappelli neri, internet è una sorta di libro aperto. Nel loro mondo i siti web possono essere facilmente alterati. Le Spice Girls diventano calve e il Papa perde i pantaloni. Nel mondo dei cappelli neri, le email sono di pubblico dominio. Cyberjunkie, un famoso hacker, è stato arrestato e poi rilasciato. Una delle motivazioni scatenanti di un comportamento ossessivo su internet è la mancanza di controllo che esiste nella vita. È per questo che vogliamo dimostrare la nostra forza. molti hacker in passato hanno subito dei torti e questa è la loro rivincita. Ecco una tipica sfida per un hacker. Di fronte a lui un provider internet simulato, come ad esempio Daemon, Clarinet o la rete telefonica britannica. Cyberjunkie tenterà di penetrare un account personale di posta elettronica sotto il nome di Anno. Ci metterò due minuti. Ora ho un accesso completo alla macchina. Sto utilizzando la root del suo nome utente, una sorta di superutente che mi permette di accedere all'intero sistema. Sono arrivato ad una casella email di un utente di nome N e ho acquisito il suo numero di carta di credito. Internet è vulnerabile e non è stato concepito come un sistema per transazioni confidenziali. Ciò nonostante, l'e-commerce e i banking online si sono sviluppati a dismisura. Lo scorso anno la banca EG ha riportato perdite per migliaia di sterline su conti online. Secondo Phobos, non è solo la punta di un iceberg. Vedere una banca online mi ha stupito. Per vent'anni non avevo fatto altro che violare sistemi informatici e quando un mio amico si è collegato alla rete mi ha detto ecco, ora sono sul mio conto. Gli ho chiesto se poteva trasferire somme di denaro senza doverlo confermare per iscritto. Quando mi ha risposto che...